Una nuova filiale perché andiamo avanti, Riviera Banca va avanti, comprende le esigenze sempre crescenti dei clienti e quindi la necessità di avere nuovi servizi, di dare nuovi prodotti, di avere un contatto diverso con la gente, con i soci, con i clienti. E poi perché è un inizio, una ripresa, stiamo uscendo dalla crisi e questa deve essere proprio una dimostrazione che ricominciamo. Insomma ricominciamo a vantaggio del territorio, a vantaggio della gente, a vantaggio di tutti coloro che hanno la buona volontà di essere utili. Anche nella struttura e come è stata arredata e progettata questa filiale ha molte connotazioni relative a Pesaro? Sì, noi diciamo abbiamo dei significati che indicano la pesaresità, cioè abbiamo ad esempio sulla parete principale c'è una gigantografia che riporta un'immagine di Pesaro, abbiamo all'ingresso, ci sono delle ceramiche che hanno fatto e hanno progettato gli studenti del Mengaroni e riguardano alcuni partiti di Rossini e abbiamo giù, appena si va giù per le scali, abbiamo un altro segno secondo noi molto importante, abbiamo una bicicletta stilizzata e un'architettura praticamente di un artista molto importante e quindi è un po' tutto non pensato a caso ma tutto calcolato, valorizzato, cercando appunto di valorizzare Pesaro, la pesaresità, i sentimenti dei pesaresi.